Dopo l'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila, anche quello dei comuni del cratere sismico torna operativo con i pieni poteri di firma dopo la registrazione della Corte dei Conti. Il responsabile ad interim dei due uffici, Giovanni Francesco Lucarelli, nominato fino al 31 gennaio prossimo dal Governo nazionale, ha firmato i primi provvedimenti per conto dell'USRC, liquidando uno stato di avanzamento lavori per un importo complessivo di 15 milioni di euro e 18 pratiche di ammissione a contributo per un importo di 6 milioni. Ma per lo sblocco effettivo e completo delle risorse occorrerà aspettare il nuovo anno con la riapertura della Banca d'Italia dopo le festività. È ovvio che siamo arrivati un po' lunghi, alla vigilia di Natale, tutti sanno che domani la Banca d'Italia chiuderà gli sportelli, quindi io penso che probabilmente gran parte dei salle e giacenti non riusciranno ad essere liquidati. Però è una buona notizia perché dal 2 gennaio possiamo riprendere l'attività normale fino al 31 gennaio che è la scadenza del suo interim. Servivano all'impresa per poter provvedere ai pagamenti di fine anno, quindi tasse, tredicesime, subappartatori, fornitori e quant'altro. I due uffici sono rimasti scoperti al vertice quando nelle passate settimane il responsabile dell'USRA, Raniero Fabrizi, che aveva anche l'interim all'USRC, è stato nominato alla guida della struttura tecnica di missione presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, organismo che si occupa di ricostruzione.